Se questo ti suona familiare è perché ami la natura, allora perché non fare della tua passione la tua professione? Il programma internazionale in scienze forestali e ambientali del DBAF ti aiuterà a costruire nuove competenze e scoprirai metodi per misurare la crescita delle foreste e tecnologie avanzate per quantificare la loro capacità di assorbire gas serra e soluzioni per mitigare gli effetti del cambiamento climatico attraverso la gestione forestale. Nelle tue mani la foresta diventerà un habitat più attrattivo per specie vegetali ed animali e genererà attività economiche che portano lavoro. Cosa aspetti allora? Accresci la tua formazione in un contesto internazionale.